Lo sapevate che gli antenati dei supereroi si chiamavano Buffalo Bill, Dracula e Tarzan? Inoltre ciò che accomuna tutti i supereroi è il loro pittoresco costume. Paese che vai, supereroi che trovi, ma sicuramente il più popolare è Superman, seguito da Batman e Spider-Man. Anche se noi ne abbiamo scovato uno che risolve tutti i problemi, Super Enalotto!